Salve a tutti, sono Alessio Crucini, direttore del patronate Paseitaco della CNA di Arezzo. In questo video vi parlerò di una misura contenuta nel decreto Curitalia di particolare interesse per le nostre imprese, e cioè delle indennità dei 602 euro previsti per il mese di marzo. Questa indennità riguarda tutti i lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, i libri professionisti titolari di partita IVA al 23 febbraio, i titolari di rapporti di collaborazione e coordinate continuativa iscritti alla gestione separata, i dipendenti stagionali del settore turismo, gli operai agricoli, i lavoratori dello spettacolo e i professionisti iscritti ad albi e ad ordini professionali. Quali sono i requisiti per ottenere questa indennità? Non bisogna essere titolari di una pensione e non bisogna essere iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria. Le procedure informatiche per l'invio delle domande sono attive dal 1 aprile, e quindi tutti i nostri uffici sono già pronti per assistervi in queste domande, e quindi potete prendere contatto con la sede CNA più vicina a voi e sarete indirizzati ad un operatore. Oppure potete anche inviarci una mail e gli indirizzi che trovate pubblicati sul sito www.cna.arezzo.it o sul sito del patronato www.epasa-itaco.it Un caro saluto a tutti!